La gara è il gran premio del Bahrain, il campionato è la Master League. Amici di Formula Italian Team, buonasera e virtualmente benvenuti sul circuito di Al-Sakir. Va detto che questa sera abbiamo la prima wildcard di questa Master League perché c'è Rayman che sostituisce Cro numero 1. Nello scorso puntamento abbiamo visto tanti che sacrificano la critica per provare una strategia differente in gara. La rosa delle strategie, specie in questa gara di oggi, credo sia particolarmente ampia. Quindi si apre a molte sfumature che potrebbero rendere la gara davvero molto interessante. Mentre Fab quarto, con la soft 1.26.339. Meraviglioso Fab, è un gran tempo questo. Au, Savastan fuori, Savastan. Vediamo Magic, 24, 25, 26 e 0, 10 e pole position per F1 Italian Magic. Vediamo Rayman 27 e 7 ma poi ha mollato il secondo settore. Fanno specie quegli 8 millesimi che separano Magic da Rayman. Uno sguardo alla griglia di partenza. In prima fila Magic, Rayman. Seconda fila Kiviat, Mets. Terza fila Fab, Mauro Gold. Quarta fila TF1 lorso, Savastan. Tutta fila Mokman, Marco Gano. Sesta fila di Legge, Danix. Settima fila, J-Sport. Dobby Power, ottava fila. Saro Prost, Luca D'Amico. E ora ci siamo. La concentrazione che sale. Lo schieramento di partenza che si sta andando a comporre. Gli ultimi momenti di concentrazione. Allora occhio semafori che si vanno accendere. Due, tre, quattro, cinque. Prima dentro, sui fori. E andiamo. Parte il Gran Premio del Varei in categoria. Master League. Rayman che è un ottimo scatto. A dispetto di Magic che ha partito malissimo. Prova a difendere la sua seconda posizione a questo punto. Daki Viat che ha scavalcato Fab. Metz anche ha scavalcato Fab. Sono side by side a curva tre. Con Fab all'esterno. Prova a resistere. Ma Metz ha la linea più corta. E riesce a passare. Dei piloti con gomma soft. Il primo è Fab in quinta posizione. Poi tutti con gomma super soft. Fino a Smokeman di Legge e J-Sport che sono decimo. Undicesimo e dodicesimo. Poi tutti con le medie. Mauro potrebbe infilarsi all'esterno a curva. Quattro tira la staccatona. Mauro side by side con Fab. Attenzione, Leggero contando. Da McLaren di Fab. A McLaren di Fab. Sì. E Fab dai box. Cambio d'ala. E arrivano anche le gomme medie. E a Lusso. Ha scavalcato Savasta. Boxes a Vastan box a Lusso. Molto anticipata la sosta. Occhio perché Fab dopo il suo pit stop è proprio ingarellato con Alonso. E gli esce appena davanti. Allora, c'è 5 secondi. Magic by box. Credo anche Chiat l'ha seguito. Infatti si mancava anche la Renault. Attenzione, Luca D'Amico. Luca D'Amico fuori. Attenzione, Savasta che è davanti a Gano. Appena davanti, sì. Gano controllo al limite salendo sul cordone. Ma vediamo, Raiman intanto deve pensare... Eh, vai box. Saranno sul filo, eh. Via il limitatore. Raiman toglie adesso il limitatore. Attenzione. Eh, ce la fa. Attenzione, Forza è davanti. Savasta. Oh, contatto. Oh, traverso. Motard vi è tanto fumare con Savasta che è riuscito a passare. Questa è da incorniciare. J-Sport su Di Legge. Si prende la posizione o va a lungo? Occhio Di Legge che prova a resistere. Mi lo accompagna leggermente fuori. J-Sport. Saro. Non si sono toccati. Approfitta Prost e si prende la posizione. Smokeman. Che va in box così come J-Sport che lo segue. Continua invece Saro. E adesso si prende la testa della corsa. Raiman che arriva vicinissimo a dove i power dera. Uh, all'ultimo. Attenzione. Qui vediamo il cambio di direzione side by side. Oddio, Legge che potrà sapere prendere la macchina. Attenzione. Attenzione. Side by side ruota ruota con Raiman che adesso ha il favore della traiettoria più interna. Ma dentro Raiman ancora Dovi Power che non vuole cedere. Riesce alla fine a passare Raiman. Attenzione. Marco Ghanu sbaglia all'ingresso al tornantino. Ahiaiaia. J-Sport. Mannaggia, mannaggia. Magic nei confronti di Dovi Power che viene sverniciato completamente. In questo momento Prost, Raiman e Magic in questa situazione devono ancora tutti fare una sosta. Quindi sono praticamente a parità di strategia. Occhio. Idem Dovi Power. Ulla. Scusami, scusami Raiman. Eccolo l'attacco. Si stanno Prost. Ghanu. Oh, Ghanu. Ghanu fuori. Attenzione. Credo abbia perso la macchina. Ulla la. Safety car. Safety car la prima della stagione. Per Smokeman è un disastro. I primi entrano tutti. Infatti si fermano anche Dovi Power. E credo. Credo andranno tutti sulla soft. Occhio ai box perché erano vicini. Occhio che non ci possano essere dei cambi di posizione. Perché il traffico è immane. Prost c'è davanti a Raiman. Alonzo perderà tantissimo. C'è il compagno davanti ad Alonzo. Occhio a safety car in questo giro. Skiat. Ha tamponato qualcuno. La safety car che va a rientrare ai box. Bandiera verde e si riparte. Attenzione. Danix che si infila su Magic. Non è ripartito benissimo in lap. Il pilota della Ferrari. Finito in quinta Magic. Gomme media in difficoltà. Anche Mau. Mauro con Savalsta in contatto. Mamma che parapiglia. Smokeman che si infila a curva 1 su Magic che può solo stare a guardare. Vediamo come si qui Raiman. È vicinissimo. Sarà cruciale qui. Molto bene. Ci butta all'interno Raiman all'esterno. Saro. Prost. Ci prova anche nel misto side by side. Vicinissimi. Mamma. Grande sorpassio di Raiman che alla fine la porta a casa. Giro veloce di Smokeman. Occhio. Smokeman con Alonzo. Lo scavalca all'ultima curva. Mamma mia Alonzo. Mamma mia. Cosa ha tentato di fare Alonzo all'esterno. Oioioioi. Occhio che qui vanno in tre. Uo, attenzione. Uo, mamma mia. Di sincronizzati fra loro. Ancora Smokeman con Danix. È il rutto. E qui Alonzo che sta cercando tutti i varchi possibili e immaginabili. Eccolo. Mamma mia che mossa di Alonzo con Smokeman. Uo, qui ancora contatto. Attenzione side by side con Smokeman. Caspita che lotta che sta venendo fuori. Occhio qui Rolotta. Furibonda con Raiman che si difende. Uo, è uscito male. Prost va dentro. C'è pochissimo spazio. C'è pochissimo spazio. E passa dove c'è scritto. Grande sorpasso questo. Fabri entra. Solo se c'è un cambio d'ala. Ti legge su Danix. Mamma, attenzione Savastan. Curva tre. Arriva. Arriva stavolta. Metto. Rima che è vicinissimo. E qui il mitico fazzolettino con scritto Howe Fiddersen. Occhio Prost arriva. Occhio Prost arriva. Si difende. Occhio attenzione. Mamma mia. Lo accompagna verso l'esterno. Oh, caspita che lotta. L'è davanti. Mamma mia. 56, 57. Inizia l'ultimo giro e Prost è lontano. Lontanissimo. Si sta avvicinando. È troppo lontano. Arrivano le staccate di Curva 1 e Raiman respira. Respira relativamente. Il sagomone è grande. C'è poco spazio ma lo sa come è grande. Uu, mamma che controllo Prost. Mamma mia. Dovi Power che ha dovuto evitare anche Dovi Power. Quindi attenzione. Occhio attenzione. Attenzione. Attenzione a Dovi Power. Attenzione a Dovi Power che potrà ripetare un punto impossibile. Attenzione. Attenzione passa a Curva 10. Prost che vede che purtroppo non c'è più tripa per Gatti. Finisce così. Andiamo a uscire dall'ultima Curva. E andiamo a passare sull'altra guarda dove sventola la bandiera. Scacchi. Rima 7 vince. Il gran premio della Bahrain. Categoria Master League. Davanti a Zero Prost. Davanti a Dovi Power. Mamma mia che gara che hanno fatto. Bellissimo. Sì bravi. 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 Sì bravi.